Elisa Meneghini per la Gal Lissone sul quadrato del Corpo Libero Abbiamo dato il bentornato alla Elisa nella tappa di Serie A che ha dato l'esordio a questo campionato, la ritroviamo in questa seconda gara ricordiamo solo tre settimane di distanza fra una gara e l'altra quindi per lei che è stata ferma per parecchio tempo sarà comunque difficile avere un percorso netto vediamo intanto come si esibisce al Corpo Libero la data flick doppio raccolto, molto ampio, arrivo abbondante corretto con un salterino all'indievo si prepara, altra diagonale acrobatica la data flick, doppio gara anche qui grande ampiezza, apre la carpiatura leggermente in ritardo è costretta anche in questo caso a un piccolo saltello ma davvero efficace Aja Bay con un giro ancora all'angolo, per una nuova diagonale questa volta in avanti, salto teso, salto teso con un avvitamento recuperato molto bene, il salto non era ampio ha piegato le gambe in fase d'arrivo Aja Bay con la flessione, Aja Bay con un mezzo giro ancora una fase acrobatica un avvitamento, aveva concluso così anche l'esercizio della prima tappa un salto con un giro, una divergata frontale stavolta e brava Elisa 12.300 per Elisa Meneghini al corpo libero e adesso è il turno i campionati